story time evoluzione radio buongiorno e bentrovati amici di story time sono veronica e oggi sono qui con paola che ci parlerà del libro che ha scritto ma prima come sempre vi ricordo che se volete ci potete trovare su tutti i social come story time ufficiale buongiorno paola è un piacere averti qui con noi buongiorno veronica è un piacere perché oggi andiamo a parlare del tuo libro andate e ritorno si andata e ritorno andata ok scusami partiamo bene raccontaci un pochettino la storia di questo libro di che cosa parla allora andata e ritorno la storia della mia vita io dico sempre che la morte a due volti in questo libro praticamente la prima è una storia di premorte dove mi ritrovo nel mondo di mezzo da lì capisco quello che voglio fare nella mia vita la seconda parte è la seconda morte a livello psicologico ed emotivo con vittima di un narciso manipolatore maligno covert penso che sia il peggio del peggio la quale poi mi ritrovo a lavorare sulla tematica del narciso manipolatore per aiutare le persone ad uscire dalla manipolazione a capire il perché siamo finiti in una manipolazione ed ecco perché l'ipnosi l'ipnosi come aiuto andando a mettere a tacere quello che è l'emisfero sinistro quello che è il nostro razionale andiamo a lavorare con l'emisfero destro quello che sono le nostre memorie antiche i nostri ricordi per andare ad aiutare le vittime di narcisismo che chi è la vittima ideale del narciso manipolatore la vittima ideale del narciso manipolatore la donna empatica la donna senza autostima quella che non crede in se stessa quello che quella che in qualche modo ha sempre bisogno di essere vista di essere considerata ok e logicamente andiamo a capire il perché abbiamo permesso il perché continuiamo a rimanere in una storia tossica il perché abbiamo paura ad uscire da una storia tossica è molto interessante logicamente dobbiamo lavorare su noi stesse io dico sempre nei miei video sul mio canale youtube che non lavorare su se stessi non è un dato di fatto ma è un percorso di conseguenza io non so mai quante sedute servono per aiutare la persona ad uscire da una manipolazione ma logicamente bisogna lavorare se bisogna riprendersi in mano tutto ciò parte solitamente da quella che è una nostra infanzia o si è stati non visti o si è stati visti troppo di conseguenza le problematiche sono comunque abbastanza rilevanti perché poi ci portano a vivere una situazione pesante alla fine di una relazione tossica si arriva esausti si arriva senza più energia si arriva veramente persone svuotati un corpo svuotato esattamente così di conseguenza bisogna andare proprio a costruire pezzetto per pezzetto quella che è la nostra autostima il nostro volerci bene beh molto interessante comunque come tematica perché purtroppo di relazioni del genere ce ne sono veramente troppe sono miriade di situazioni dove le donne e uomini comunque arrivano veramente sfiniti durante la fine di un rapporto purtroppo sì quindi mi hai parlato di donne tendenzialmente deboli molto fragili donne che praticamente non hanno autostima non credono in quelle il loro valore donne molto empatiche le classiche crocerossine di conseguenza oppure uomini anche loro molto buoni che desiderano proteggere la loro compagna la moglie cioè praticamente uomini che si ritrovano anche loro in una dinamica tossica però dobbiamo anche dire che la manipolazione non è solamente col compagno o la compagna ma può essere sul luogo di lavoro può essere un genitore può essere un fratello può essere un amico può essere un parente di conseguenza le situazioni sono abbastanza grande quindi tendenzialmente un libro per tutti il libro praticamente è un libro per tutti dove io spiego comunque quello che è successo a me come ho fatto ad uscirne lavorando logicamente con l'ipnosi perché questo è il mio lavoro certo e quello che voglio dire la vittima ideale comunque una donna empatica una donna solare anche una donna molto intelligente infatti tanti mi dicono ma come è possibile che invece allora più la donna intelligente più è solare più è una persona empatica e più il narciso la vuole la vuole perché la deve prosciugare delle sue energie una volta che l'ha resa un corpo svuotato l'abbandona la scarta la lascia proprio come un involucro vuoto e se ne va alla ricerca di un'altra vittima ma attenzione nel mentre che siamo già in quello che è l'inizio di una storia tossica che inizia con un love bombing la persona in questione o il narciso la narcisa già comunque stanno svalutando la vittima e stanno già comunque facendo i passi per accapparrarsi nuove vittime perciò non saremo mai soli in una relazione tossica ma saremmo sempre più e più vittime purtroppo la cosa triste di questa intervista credo che sia il fatto che molte persone che ci stanno ascoltando si riconoscano in queste parole la cosa veramente più triste è questa tutti tendenzialmente abbiamo avuto una relazione tossica purtroppo nella nostra vita come facciamo a capire di essere in una relazione del genere allora quando ci sono i segnali e le classiche bandiere rosse quando tutto è troppo troppo presto quando uno ti promette dopo due giorni magari dice che ti ama immensamente che vuole sposare che vuole costruire con te la vita una vita oppure che ti si presenta come il poverino quello che comunque gli è sempre andato tutto male quello che praticamente la madre non l'ha voluto la fidanzata l'ha tradito il datore di lavoro non si rende conto delle sue capacità insomma questo è il covert invece l'over praticamente quello brillante quello che sa fare tutto a lui il meglio del oltre a lui non c'è nessuno ecco queste sono le due tipologie over the cover dei narcisisti o narcisiste ma che hanno l'unico scopo l'unico obiettivo quello di distruggere la vittima tante volte mi ritrovo le persone che mi contattano e mi chiedono ma perché attiro sempre la stessa tipologia di uomo o di donna perché se non lavoriamo sui nostri schemi che ci riportiamo anche a livello genitoriale e troveremo sempre lo stesso tipo di persona purtroppo sì ma come facciamo quindi a trovare il coraggio poi di uscire da una relazione tossica perché comunque molte volte ce ne rendiamo conto in primis però non riusciamo a fare quel passo in più quando arriva alla fine sei esausta eh sì cioè solitamente se c'è lo scarto indotto è che tu chiudi con una relazione tossica perché non ce la fai ma perché ti ha portato il narcisista chiudere oppure perché il narcisista ti ha proprio scartato appunto e allora per forza di cose devi riprenderti in mano ma comunque diventi un essere come ho detto prima svuotato e risalire la china è veramente una situazione molto molto pesante io dico sempre che scrivere chiedere aiuto a chi di dovere denunciare è la prima cosa da fare per uscire da una manipolazione impossibile lavorare su da soli per uscire da una manipolazione perché non si hanno le armi per farlo bisogna proprio farsi aiutare da un professionista che riconosce però quella che è una manipolazione perché tante volte mi ritrovo persone che mi dicono ok io ho fatto un percorso però non sono stata capita sono andata con mio compagno con mio marito e da carne da vittima sono passata carnefice è vero perché sono molto bravi a mentire perché ricordiamoci che sono degli attori nati sono manipolatori esatto io dico sempre che un non verbale è basi rare per riconoscere le micro espressioni facciali io col mio lavoro lavoro proprio anche con le micro espressioni facciali se una persona mi dice a il suo non verbale mi dice b certo mi fermo dico c'è qualcosa che non corrisponde a una realtà sono molto attenta in questo infatti le mie sedute praticamente porto la persona in un rilassamento a livello psicofisico dove metto a tacere l'emisfero sinistro e lavoriamo con l'emisfero destro nostre memorie antiche e nostri ricordi beh wow molto molto interessante diciamo che lo amo molto ma si vede e fai benissimo anche perché dai una mano veramente tante donne tanti uomini che si trovano in queste situazioni ma se noi dovessimo capire di essere manipolatori possiamo comunque allora io fino adesso non ho trovato un narciso manipolatore una narciso manipolatrice che ha cercato di farsi aiutare anzi solitamente vanno da un professionista per in qualche modo ricostruire una nuova maschera e per intortare anche il professionista in questione e per quello che dico sempre se non conosciamo quello che è un linguaggio non verbale le micro espressioni del volto rischiamo che anche il professionista venga intortato molto facilmente allora dove troviamo scusami il tuo libro perché adesso sono curiosa lo voglio leggere voglio capire un pochettino anch'io allora il mio libro è su tutta la piattaforma online perciò su amazon mondadori feltrinelli però solo ed esclusivamente online perfetto io ricordo paola fendoni su tutti i social www.paolafendoni.com paola io ti faccio un enorme bocca al lupo complimenti comunque per il coraggio che hai avuto e ne scrivere anche questo libro poi parlarne perché non sono mai temi molto semplici e complimenti per l'aiuto che dai a tutti quanti è stato veramente un piacere parlare con te grazie amici di story time anche questa intervista è finita rimanete connessi per altre storie grazie a tutti